Bene ragazzi, speriamo che non possiamo fare una bella presentazione in aula. Come facciamo a divulgare le nostre idee attraverso una presentazione di PowerPoint? Bene ragazzi, benvenuti in PowerPoint in pilo del numero 11. Io sono Gerardo e in questo video vediamo che per una stessa ragione non possiamo riunire i nostri clienti, i nostri dipendenti che sono in giro per il mondo. Vogliamo comunque diffondere le nostre idee attraverso una presentazione di PowerPoint. Ci sono diversi modi per fare questo. Ovviamente quello che suggerisco io è fare una video presentazione dove abbiamo proprio il relatore che parla e slide dopo slide presenta appunto le nostre idee. Bene ragazzi, come di consueto mettete un like se il video poi alla fine vi sarà piaciuto, iscrivetevi al canale se volete iscrivervi e continuare a seguirmi, seguitemi anche sui social se volete mi trovate, condividete, scrivete commenti qua sotto eccetera eccetera eccetera. Bene ragazzi, buona visione! Facciamo un po' di pulizia, facciamo con il tasto cance, cancelliamo questa, cancelliamo questa, ci serve. Bene ragazzi, a questo punto non facciamo nient'altro che andare qua in presentazione e andiamo a cliccare questo bel pulsantone registra presentazione. Ecco, attenzione, questo qua è il pennello di controllo come si presenta. Qua ci sono tutti gli strumenti che usa il nostro relatore, però attenzione, in realtà quando andiamo a videoregistrare la nostra presentazione, questa parte nera qua non viene inclusa nel filmato finale, diciamo così. Ecco qua notate che c'è la webcam, è qua in basso a destra, non si può spostare, e qui è, qui rimane. Dopodiché qua abbiamo i soliti pulsanti registra, interrompi, riproduci eccetera eccetera. Qua possiamo includere delle notte. Ecco qua c'è il pulsante che magari, una volta che abbiamo visto la nostra registrazione, non ci piace qualcosa, la possiamo cancellare. Qua ci sono i settaggi di microfono, webcam eccetera eccetera. Qua dipende da quali microfoni sono collegati al vostro computer, possiamo decidere di usare uno piuttosto che l'altro. io ho usato il bluietti che è questo qui. Qui abbiamo la impostazione della webcam. Ecco qua ci sono altre impostazioni, possiamo mettere il microfono così come possiamo toglierlo, possiamo togliere la webcam e tenere il microfono eccetera eccetera. Qua ci sono la gomma, la penna e l'evidenziatore con i vari colori, che poi vi farò vedere quando li usiamo. E qua c'è il timing che poi ve lo spiegherò bene dopo. E qua ovviamente ci sono le slide che possiamo iniziare da qualsiasi slide. Ovviamente iniziamo dal primo slide, questa qua è la nostra prima slide. Eccola qua, mi sembra che era questa qua, anzi facciamo una cosa. Sì, è questa qua la prima slide. Bene ragazzi, quando clicco il pulsante registra, noterete che qua sulla webcam viene fuori un bel pulsantino rosso, vuol dire che stiamo registrando e io inizierò a dire qualche cosa così a vanvera, ok? Qualche cosa di fantasia. Per cui io vado a cliccare registra, ecco qua fa il countdown e inizio a parlare. Buongiorno ragazzi, io sono il vostro presidente, sono il nuovo presidente della compagnia, mi raccomando di avere una buona annata, di portare tanti soldi in cassa, perché altrimenti qui l'azienda non va avanti. Bene ragazzi, è tutto per questa registrazione. Ecco, adesso io appena clicco qua e interrompio, ovviamente il pulsantino rosso qua viene via. Ecco qua. Bene, a questo punto possiamo testarlo con il riproduci. Vediamo cosa è successo. Buongiorno ragazzi, io sono il vostro presidente, sono il nuovo presidente della compagnia, mi raccomando di avere una buona annata, di portare tanti soldi in cassa, perché ecco qua, mi sembra che vada tutto bene, ok? Adesso andiamo nella seconda slide e facciamo la seconda registrazione. Andiamo a cliccare qua il pulsante rosso. Bene ragazzi, vi ricordate che dieci anni fa eravamo qui, adesso siamo arrivati qui. Però il nostro obiettivo ovviamente è quello di arrivare qui, ok? Per cui ragazzi diamoci sotto, perché altrimenti se non portiamo i soldi in cassa, qui è un casino. Stoppiamo la registrazione. Ecco qua, interrompi e andiamo a riprodurre. Bene ragazzi, vi ricordate che dieci anni fa eravamo qui, adesso siamo arrivati qui. Ecco, voglio farvi notare una cosa molto importante ragazzi. Vedete qua in basso c'è il timing. Questo qua è il timing della diapositiva in corso. Ad esempio, io qua in questa diapositiva ho dedicato 21 secondi. Invece questo qua è il timing di tutte le registrazioni che ho fatto in tutte le diapositive. Però attenzione a una cosa molto importante. Questo qua non è il tempo di tutto il video. Perché poi bisogna aggiungere tutte le slide che non sono state commentate. Ad esempio, ci sono rimanenti ancora 7-8 slide. Per cui ogni slide saranno 4-5 secondi. Per cui il video, oltre a questi 44 secondi, bisogna aggiungere 5 secondi a slide che verrà meno male un minuto e mezzo circa. Ok? Andiamo nella slide successiva. A questo punto, se siamo soddisfatti, possiamo chiudere. Ecco ragazzi, un'altra cosa molto importante. Eventualmente, se volessimo fare ancora qualche altra modifica, possiamo farlo anche qui nell'editor. Ad esempio, non vogliamo questa registrazione. Il ciclico sopra e con il tasto cance, vedete? Metto via. Ecco, CTRL-Z per tornare indietro. Ecco, a questo punto ragazzi, andiamo a salvare il nostro video in formato mp4. Ok? Verrebbe spontaneo fare file, salva con nome e andare a scegliere un video qua mp4. Vedete? Video MPEG mp4. Però, vi consiglio di andare qua in Esporta, Crea video. Perché vi consiglio di andare qua? Perché ovviamente abbiamo alcune opzioni aggiuntive. Ad esempio, possiamo scegliere la qualità. Ok? Full HD, Ultra HD, eccetera, eccetera. Ecco ragazzi, qui un altro... Ecco qua, secondi per ogni diapositiva. Vedete che qua c'è scritto 5 secondi per ogni diapositiva. Questo qua è il tempo che passa da una diapositiva all'altra. Io parlo delle diapositive e quelle che non sono state commentate. Ok? A questo punto andiamo a scegliere... Andiamo a scegliere, non so, HD 720p. Piuttosto che... Ecco, magari vi consiglio il Full HD 1080. Ecco qui poi il tempo di renderizzazione del video dipende da tanti fattori. Dalla qualità del video, dipende dalle prestazioni del vostro PC e dipende appunto anche da quante slide. Perché se avete 500 slide, ragazzi, ci vuole tantissimo, tantissimo tempo. A questo punto andiamo a scegliere un formato Full HD che mi sembra un buon formato. A questo punto Crea video. Andiamo a scegliere il nostro percorso. Facciamo qua in Desktop. Andiamo a fare Salva. Ecco qua mi chiede di continuare comunque anche con i file multimediali perché qua c'erano dei file multimediali che adesso non vi posso far vedere che erano dei video perché non verranno riprodotti per cui continua senza file multimediali. Ecco qua in basso c'è una barra di caricamento e qua appunto, come ho detto prima, ci vorrà tanto tempo in base a tanti fattori. Quante slide ci sono, quanto è buono il vostro computer, come è appunto, come lavora il processore. Ecco, vedete che c'è la prima barretta. Bene ragazzi, l'ha quasi caricato. Vediamo qual è il risultato finale. Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Tutto caricato. A questo punto andiamo nel nostro desktop. Ecco ragazzi, vediamo com'è il nostro video. Andiamo a aprire il nostro video player. Ecco qua, questo qua è un video player. Buongiorno ragazzi, io sono il vostro. In questo qua possiamo andare avanti e indietro con il video. Partiamo qua dall'inizio. Eccoci qua. Buongiorno ragazzi, io sono il vostro presidente, sono il nuovo presidente della compagnia. Mi raccomando di avere una buona annata, di portare tanti soldi in cassa, perché altrimenti qui l'azienda non va avanti. Sembra che vada tutto bene, la qualità è anche buona del video. Bene ragazzi, e tutto. Andiamo avanti. Ecco qua, questo qua mi interessa. Vediamo un attimino qua. Anche anni fa eravamo qui, adesso siamo arrivati qui. Però il nostro obiettivo ovviamente è quello di arrivare qui. Ok? Per cui ragazzi diamoci sotto, perché altrimenti se non portiamo i soldi in cassa, qui è un casino. Ecco, non è stato che comunque il video qua è lungo. Stoppiamo la registrazione. Due minuti e mezzo, vedete. Ragazzi, comunque come ho detto prima, se non portate i soldi a casa e in cassa, qui è un casino. Vedete che, come dicevo prima, verranno incluse anche, ecco qua, tutte le slide che non sono state commentate. E ogni slide mi sembra che ci sono dentro 5 secondi. Questa potrebbe essere una buona cosa, ma anche una cattiva cosa, per cui sta a voi se pulire e togliere le slide, sia dall'inizio o meno. Bene ragazzi, che dire, niente male questa video presentazione, dove il presidente riesce a divulgare le proprie idee ed essere molto incisivo. È sicuramente una buona idea, come anche una buona idea, quello che vedremo nel video successivo, PowerPoint in più nel numero 12, vi aspetto che ci sono altri modi per condividere le nostre presentazioni. Vi aspetto nel video successivo. e Chick Core,